Anche l'arrivo dei soccorsi è stato inutile. Torniamo sull'emergenza sanitaria. Più in là si colloca la data della ripartenza e più saranno i danni al PIL italiano. Per questo anche Confindustria chiede di allentare subito tutti i lacci della burocrazia per far arrivare le risorse alle imprese che altrimenti rischieranno molte di non riaprire mai più. Il mio obiettivo è riuscire a erogare il bonus per gli autonomi in appena 24 ore, dice il ministro dell'economia Gualtieri in audizione sul DEF. Gualtieri spiega che il decreto di aprile dovrebbe essere in arrivo e che verranno riproposte agevolazioni e semplificazioni fiscali e rinviati alcuni adempimenti come quelli amministrativi in materie decise. Ma il ministro dell'economia sottolinea anche che la SACE è in grado di dare garanzie sui prestiti in 48 ore e che sta seguendo già 150 operazioni per un totale di 2 miliardi e mezzo di euro. Ed è proprio sul decreto liquidità che arrivano i dubbi della Banca d'Italia. Via Nazionale chiede che le garanzie siano affiancate da trasferimenti diretti da parte dello Stato ma anche uno scudo per proteggere gli istituti dalle insolvenze. E per la Banca d'Italia bisogna valutare anche l'ipotesi di un'autocertificazione della perdita di fatturato per erogare più velocemente i prestiti. Ipotesi sostenuta anche dalla Fabi che sottolinea come ai problemi del decreto si siano aggiunti anche quelli creati da alcuni vertici bancari non pronti nell'organizzazione. Mentre l'ABI chiede uno scudo penale per gli amministratori delegati delle banche relativo all'ipotesi di concorso in bancarotta o abusiva concessione di credito. Intanto l'Istat certifica l'aumento impressionante del debito pubblico. Il rapporto deficit-PIL nel 2020 ha raggiunto il 155,7% del PIL il livello più alto dalla prima guerra mondiale.